Salve a tutti siamo qui a Romino Nero per notizie e per questo Romino Nero per notizie vediamo l'odizia del Borussia Dortmund contro l'Hoffnem che è final 3 a 2 e niente praticamente allora Almania Federazione Kupassi-Final Meshinda-Buruss Dortmund-Sascha Sinda e Huffman in Uzmara 3 a 2 e niente che è il finale di Uccelli. Almania Federazione Kupassi-Final Meshinda-Buruss Dortmund-Sascha Sinda e Huffman in Uzmara 3 a 2 e niente di Uccelli-Final Meshinda-Buruss Dortmund-Sascha Sinda e non era tantissima, vabbè, ed FN3-2-Mankulpp-Ederich-Yan-Finale-Uccelli-Uccelli-Uccelli-Buruss Dortmund 3 e Off-M2. Questa è la notizia in tedesco, quello tutto pure in tedesco, ragazzi. Perché Ti mi raccomando, seguireci più un minuto nelle nero delle notizie e arrivierci alla corsa. Dillo che sei un poliglotta. Ah, no, 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 è feruto, però. Sto sparando, andando a guardare.